Domenica prossima si vota per le primarie del centro-sinistra con l'obiettivo di trovare il candidato più adatto a governare l'Italia dalla prossima primavera. In Lizza c'è anche Nicky Vendola, presidente della Regione Puglia e segretario di sinistra Ecologia e Libertà, dichiaratamente gay. Nicky, legato sentimentalmente da ben 8 anni all'italo-canadese Eddie Testa, pensa che sia arrivato il momento di riconoscere giuridicamente le coppie dello stesso sesso anche nel nostro paese e a differenza degli altri candidati alle primarie, tra cui Renzi e Bersani, che vorrebbero fondare un nuovo istituto giuridico diverso da quello per le unioni etero, Vendola punta ad allargare a tutti la possibilità di sposarsi, come ha sostenuto non molto tempo fa anche dal palco del Gay Village di Roma, dove ha ricevuto un premio per il suo impegno civile. Grazie a tutti.